ci sono sempre le linee energetiche che poi arrivano direttamente certo questa sembra una questa era l'entrata entrata dall'acqua percorro l'entrata un vestito e poi si scendeva ancora per arrivare le varie cellette addirittura ne contiene ancora un'altra questo abbiamo il particolo latte certo non si vede molto e ancora all'interno c'è un'altra celletta in pratica ne conto una due tre quattro cinque 6 7 8 8 più vestibili questo viene ancora all'ingresso bella tomba una peduta finale e arrivederci a presto